Dottoressa Consorte, qual è l'importanza oggi dell'antibiotico? Gli antibiotici sono dei farmaci che hanno curato, curano un gran numero di pazienti, ma quando usati in maniera eccessiva, soprattutto inappropriata, diventano inefficaci, resistenti. Noi dobbiamo affrontare questo problema non soltanto dal punto di vista medico, perché l'uso degli antibiotici per l'80% inappropriato in ambito diverso anche, cioè a livello zootecnico, quindi in ambito veterinario e in ambito agricolo. Ma per quanto ci riguarda dobbiamo affrontare la prima criticità, che è quella dell'inappropriatezza. Quindi oggi noi facendo punto, chiaramente la centralità e il paziente come sempre, ma affronteremo in particolare le problematiche che sono connesse ai germi multiresistenti, che sono diventati purtroppo una realtà, non più solo in ospedale, come qualche anno fa pensavamo, ma c'è stata una proiezione importante sul territorio, sia a livello ambulatoriale che, ed è un ambito esteso, nelle strutture di cura long term, cioè quindi nelle strutture di lungodeggenza. Quindi occorre trovare, avere degli obiettivi con una gestione condivisa.